Benvenute, benvenuti, ben ritrovati, sono Francesco Toniolo, sono un docente universitario e mi occupo principalmente di videogiochi. Allora, oggi così, è un discorso che mi torna in mente costantemente a ondate, proprio a cicli, e anche in questi giorni mi è capitato di ripensarci per varie ragioni, alcune chiacchierate fatte, alcune cose lette e quant'altro. E' una cosa, insomma, che in parte in certi momenti è successo anche a me, quindi mi sembrava tanto più utile, interessante dire due parole. Non è un discorso accademico, scientifico, è una questione anche personale, se vogliamo, più intima, ecco, che riguarda appunto questa cosa che vedete nel titolo, cioè qual è, a parer mio, la cosa peggiore che può capitare a una persona che scrive di videogiochi per lavoro o comunque che fa questa attività con costanza nel tempo. Ma anche detto, in realtà, con alcuni cambiamenti, il discorso più o meno vale anche per coloro che lavorano in altro modo con i videogiochi, quindi che magari li realizzano, o anche, per esempio, streamer e youtuber vari. Però, insomma, questo della scrittura è un elemento con cui mi sono chiaramente più interfacciato anche in prima persona, e quindi vado su questo, ecco, in modo più verticale. E la questione, per non perdere ulteriore tempo, è questa, cioè la cosa peggiore che può capitare a una persona che fa questo di mestiere e quello di perdere l'amore per quello che fa. Ora, sembra molto banale, davvero, c'è una frase forse da Baci Perugina, quelle cose smielate, dolci. Pochino lo può anche essere, però in effetti è un qualcosa che ho visto purtroppo diverse volte, che, ripeto, in alcuni periodi, alcuni momenti è un po' capitato anche a me, perché è drammatico, perché innanzitutto in linea di massima, cioè qualunque sia la nostra attività lavorativa, è chiaro che se noi la svolgiamo, la portiamo avanti con amore, dal cuore, questo si sente, si vede, cioè può capitare a chiunque nella vita, ma davvero dalla persona che davanti a te fa la pizza o che ti prende l'ordinazione ai tavoli, quindi anche cose, insomma, semplici, quotidiane, diciamo, non ovviamente per sminuirle, ma per dire esperienze lavorative con cui possiamo confrontarci, si vede, almeno io noto questa cosa, lo vedi quando c'è una persona davanti a te che comunque ci mette un qualcosa in più a livello personale, emotivo, quindi questa è sicuramente una base trasversale condivisa, questo vale sempre. Il problema qual è di chi lavora con i videogiochi? Che c'è anche poi una differente pressione esterna, che inconsciamente non ce ne rendiamo conto, poi sono tutte quelle cose per l'appunto che magari razionalmente non andiamo più di tanto a considerare, ma che poi operano comunque, agiscono, ecco, sotto pelle, sotto traccia dentro di noi. Fatto anche che si sta facendo un qualcosa che dall'esterno è percepito al tempo stesso come un qualcosa di invidiabile, chi non vorrebbe, insomma, lavorare con i videogiochi, magari scriverci, essere, c'era questo libro qualche anno fa, pagati per giocare, che il titolo, insomma, era indicativo. Poi in realtà lo sappiamo, insomma, che il settore ha le sue problematiche, magagne, soprattutto in ambito giornalistico, ci sono anche questioni di prezzi medi degli articoli, quindi velocità delle tempistiche, quando il gioco è lungo allora bisogna correre, bisogna farsi le nottate giocando per arrivare in tempo, tutta una serie di cose che però appunto da fuori non sono più di tanto percepite, quindi ecco, dice, è fantastico, cioè sei lì pagato per stare davanti allo schermo a giocherellare, cosa che appunto per molti invece è una passione. Quindi c'è questa ulteriore spinta che però può far vivere la cosa anche come una sorta di senso di colpo, comunque può attivare all'interno qualcosa di spiacevole, quindi c'è questo aspetto di ciove esterno. L'altro elemento esterno è anche quello del giudizio, che spesso è un giudizio negativo, volto al dire questo lo so fare anch'io, lo sanno fare tutti, che non è poi vero, sebbene effettivamente ci sono poi anche dei casi, ci sono sempre stati, sempre ci saranno, comunque dove in effetti si vede l'articolo, lo speciale, no? alla cosa delle grandi penne che poi in realtà magari sono molto intercambiabili tra di loro e non hanno ecco particolari qualità critiche che lo differenziano da altri, non è questa la sede per approfondire il discorso, però è chiaro, cioè come in tutti i settori, in tutte le cose, c'è il vertice della piramide, c'è l'1%, poi c'è serie delle persone molto brave, molto mirate sul pezzo, e poi c'è chi svolge più o meno decorosamente bene un'attività, ma dove effettivamente è anche molto più facile che ci sia anche un'intercambiabilità, un ricambio proprio, e quindi c'è anche questo fatto del percepirsi forse un po' assediato, un po' sotto assedio, no? Quest'ottica del fortino, che di nuovo non sono cose esplicitate a parole necessariamente, perlomeno non mi capita tanto di sentirle formulate in questi modi, però in alcuni casi, ripeto, emergono un pochino, se si va a vedere in filigrana certi discorsi, certe questioni, un pochino al fondo ci sono questi aspetti, e cosa hanno a che fare di nuovo con l'amore, questo elemento che dicevo? Beh, hanno a che fare il fatto che in una situazione di questo genere ci si sente anche sotto pressione, proprio per il dire, beh, caspita, ma tu dovresti amare alla follia quello che fai, dovrebbe piacerti tantissimo, perché un po' la pressione è quella, davvero, l'idea che si sta facendo un'attività che è percepita o effettivamente tale, poi, ripeto, è un discorso molto ampio, ma comunque, insomma, che perlomeno da fuori è vista come un qualcosa di privilegiato, di incredibile, cioè, appunto, quello che per tante persone è un hobby, un'attività che possono concedersi per l'appunto in determinati momenti e spazi della giornata a quando non devono lavorare e quindi vanno a ritagliarsi quel momento, quell'oretta, e dici, caspita, quello è il tuo lavoro, che bello potessi farlo io, che è verissimo, c'è anche l'altro aspetto, cioè che poi, appunto, non sempre quando l'hobby e il lavoro si mescolano si riesce a gestire al meglio le due cose, questo è un discorso che insomma mi piaceva, ci tenevo a fare anche un mio libro che ho pubblicato l'anno scorso, Lavorare con i videogiochi, dove prima di andare ad analizzare tutte le varie professionalità coinvolte, avevo voluto fare proprio anche un cappello introduttivo in quest'ottica, in questo senso, che tra l'altro è molto piaciuto a diverse persone, anche di recente, un paio di settimane fa, giù di lì, al salone del libro, è stato di nuovo insomma detto questa cosa, che persone, anche abbastanza importanti, diciamo, che avevano letto questo testo, ma avevano particolarmente apprezzato proprio l'elemento che citavo ora, cioè il fatto di avere, fatto sì, la solita, giusta, doverosa, panoramica, su cosa fa il game designer o cosa fa il programmatore, eccetera, ma anche aver provato a inquadrare il tutto in quest'ottica, cioè nel senso che per l'appunto non è detto, non è scontato, che trasformare un hobby in un lavoro sia necessariamente la cosa più bella che possa capitarvi, può essere bellissimo, è assolutamente, cioè ripeto, io in prima persona, come ho detto, in linea di massima, nella maggior parte dei casi e delle situazioni, io amo il mio lavoro, mi piace tanto, lo porto avanti volentieri, poi certo può esserci di quell'attività in particolare che non gradisco, che si fa contro voglia e anche nell'ordine delle cose, però davvero nel complesso sono, ecco, davvero innamorato della stragrande maggioranza delle cose che faccio e nei momenti anche che dicevo prima in cui magari è stato diversamente era anche per fattori esterni che erano un po' entrati nell'equazione, avevano un po' sbilanciato il tutto, ecco, proprio in termini generali di vita, di ordine delle cose, quindi, insomma, può succedere anche quello un po' un altro discorso a sé, sebbene valrebbe comunque la pena parlare anche di questo, cioè comunque capire come rimettersi in carreggiata in sesto anche in situazioni del genere in un'ottica, ripeto, di persone che hanno a che fare con i videogiochi, quindi senza i grandi discorsi generici da guru del web, però davvero potrebbe essere un punto sensato e quindi dico certo, può essere bellissima una cosa di questo genere, può essere la cosa più bella della tua vita o magari non proprio la migliore in assoluto, però qualcosa che sa darti proprio soddisfazione, gusto, cioè proprio un qualcosa da gustare, il piacere, no, di fare anche una scoperta continua, di doversi continuamente aggiornare, conquistare sul pezzo che non vuole necessariamente dire, anche se qualcuno è obbligato a farlo, inseguire sempre la notizia del momento, il gossip, il pettegolezzo, ma comunque insomma continuare a studiare, scoprire, leggere, giocare, ragionare, riflettere su tutta una serie di questioni, io lo trovo molto bello, molto stimolante, davvero, quindi certo che può essere così in generale anche confrontandomi con altre persone che fanno vari lavori legati a questo mondo, però non è detto, non è scontato questo passaggio e quindi cosa può succedere? Può succedere che poi ci si trova disamorati e a quel punto qual è la situazione, qual è un po' il quadro? Direi che ci sono due macro possibilità sostanzialmente, cioè la prima è che uno cambia strada, però non è detto che sia facile o agevole farlo, perché immaginate se uno dice ok, inizio, ma con qualsiasi lavoro di nuovo, anche nello studio vale questa cosa, fate un anno qualcosa che capite essere una cosa per cui non provate alcun interesse, amore e quant'altro, lo abbandonate presumibilmente, perché insomma l'investimento temporale, emotivo, a volte anche economico che avete fatto su quella cosa è ristretto, è ridotto, è limitato a quell'area, quindi uno dice ho perso un anno, pazienza, peccato, però meglio insomma aver capito questa cosa, ribilanciarsi, se però quell'attività poi diventa il lavoro che uno porta avanti da diversi anni, non ha magari particolari altri sbocchi, soluzioni, tutto sommato si sentirebbe anche fortemente in colpa nel farlo c'è anche questo elemento appunto che dicevo prima di questi sensi di colpa interni che possiamo provare, l'idea di sentirsi percezione di fallimento, di non avercela fatta, di non essere arrivati dove si voleva, tante tante cose, il rischio è di trovarsi poi ingabbiati per l'appunto in un'attività di questo genere che non dà piacere, non ci porta quel gusto che sottolineavo poco fa e che quindi ci fa sentire un po' in una gabbia per quanto dorata, bella, ma pur sempre una gabbia fatta quindi di obblighi in cui appunto l'attività videoludica non è un piacere, non è quel qualcosa appunto che io mi gusto quando torno a casa e ristanco da una giornata di lavoro, però dico ecco adesso quell'oretta in cui nessuno mi disturba spengo il telefono mi metto lì bello tranquillo e gioco ai videogiochi facendo un esempio ovviamente inventato ma giusto per capirci allora ecco proprio che se ne trae un piacere un gusto proprio mi piace usare questa parola mentre invece se uno dice ok devo giocare a quel videogioco e devo farlo tot ore in questa giornata perché poi devo fare la recensione e poi c'è quell'altra cosa e poi devo andare all'anteprima e poi questo e poi devo fare anche sempre di più attività anche di influencer diciamo quindi il post il video il tiktok e tutto quello che si vuole può diventare davvero appunto una una gabbia dorata e io credo anche che si percepisca questa cosa non sempre sicuramente ci saranno tanti casi in cui una persona può portare avanti un'attività in questo modo ripeto in qualsiasi contesto e senza che traspaia particolarmente però un po' si vede tutto sommato cioè quando una persona nel tempo viene a disamorarsi per quello che è quest'ambito forse emerge anche un po' più facilmente ecco rispetto ad altri contesti forse c'è anche un'ulteriore pressione sociale diciamo così che altrove si vede meno cioè che tutto sommato anche il studioso la persona che si occupa di letteratura per esempio non deve giustificare pubblicamente questa sua passione anzi sarebbe strano il contrario quindi può tranquillamente sottolineare questa cosa il cinefilo la persona che ama il cine che se ne occupa magari appunto anche lavorativamente in termini di di nuovo recensioni accademia qualsiasi cosa anche lì non è che deve più di tanto rendere conto di questa sua passione mentre invece nell'ambito videoludico ancora un po' c'è questa cosa in diversi in diversi contesti e quindi di nuovo forse anche un fattore inconscio ma può capitare proprio di doversi come dire giustificare da questo punto di vista ripeto non è una cosa voluta però emerge cioè comunque dover mettere le mani avanti un pochino dire sì io mi occupo di videogiochi però non è che insomma mi piacciono proprio così tanto cioè sono molto con un occhio critico e qui si arriva all'altra questione che volevo dire che forse qualcuno starà anche pensando e quindi mi spiace anche di essere andato così avanti nel video senza averla citata ma in realtà no perché tanto insomma giustamente se un interessato sente le cose nella loro interezza cioè che anche questo che questo elemento dell'amore che dicevo della passione del gusto non vuole assolutamente dire di avere quell'entusiasmo facilone che è altrettanto sciocco proprio quando si diventa davvero la parodia di se stessi che qualsiasi cosa esce fuori bisogna essere sempre estasiati sempre a bocca aperta wow che bello mamma mia la cosa più bella del mondo non ci sarà mai più un altro gioco come questo fino al giorno dopo in cui c'è un altro gioco che non avrà mai più un equivalente queste cose chiaramente non sono quello di cui sto parlando cioè non sto parlando appunto del di questo entusiasmo un po' facilone che emerge e che tra la realtà di nuovo anche lì si è anche costretti a dover far emergere perché se uno è un influencer di un certo tipo ha un determinato seguito e quant'altro deve essere sempre così no? perché poi insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che operano dietro le quinte e di cui bisogna chiaramente tenere conto per cui certo c'è anche questo aspetto è comprensibile però ripeto non non sto assolutamente dicendo questa cosa che si debba essere appunto lì la parodia dei meme quello con lì del Wajar tutti lì a bocca spalancata per ogni nuova nerdata che esce fuori è bello cioè è bello quando c'è un gusto una passione sincera per qualcosa però davvero qualsiasi cosa salti fuori che è di tendenza sono ci si trova lì così sempre e comunque a elogiare a sbavare per queste cose per l'annuncio il trailer il teaser di tre secondi che dice che torna per la nove milionesima volta quel tale supereroe o qualsiasi altra cosa o il il miliardesimo remake di un certo gioco che torna ancora fuori dopo che è già stato su tutte le console esistenti o cose ancora eccetera va bene cioè va bene se magari proprio quella cosa lì che davvero ci tieni davvero ci ti interessa però se tutte le volte succede mi permetto di avere qualche dubbio ecco così in tutti i settori lo si vede anche quelli che qualsiasi nuova serie tv che in topic di cui si sta parlando in quel momento sono lì tutti con gli occhioni spalancati a dire mamma mia quando arriva la nuova puntata sono sono impazzito è bellissima non vedo l'ora e così sì va bene mi fa piacere però ecco non credo che sia quello di cui parlo anche perché è difficile poi mantenere nel tempo ecco questo entusiasmo così sviluppato e poi quindi forse diventa anche peggio poi sul lungo periodo qualcosa che può davvero rischiare tanto più di far disamorare poi in realtà di una determinata cosa videogiochi serie tv qualsiasi altra cosa sia perché davvero poi si perde il il senso della distanza cioè se qualsiasi tanto più per il solito capitalismo cronofagico che cito che quindi butta sempre fuori più velocemente prodotti nuovi che poi spesso non sono nuovi perché in realtà c'è tutta la cultura recuperare il residuo culturale quindi ciò che c'è stato in passato che però ha ancora valore io vado a riattivarlo quindi remake reboot rilanci sequel strani prequel e quant'altro perché il mercato chiede una mole enorme di contenuti l'immaginario la creatività non fa neanche tempo a starci dietro e quindi cosa facciamo attingiamo a ciò che è già esistente gli diamo nuovo valore ricreiamo riattiviamo dei pubblici né catturiamo di nuovi su quelle serie su quei contenuti quindi tanto più in quest'ottica di estrema velocità quindi davvero questa cronofagia questo divorare il tempo del consumo se non si ha nemmeno modo di poter selezionare quello che a me interessa da quello che non mi interessa perché diciamo così per lavoro mi deve interessare tutto che non vuol dire essere incuriositi dalle cose giustamente tanto più se uno sta facendo una professione di quel genere quindi non posso ignorare l'esistenza di determinati videogiochi o cose del genere ma l'elemento il passaggio dove subentra la cosa scorretta spiacevole è quando io devo esaltarmi diciamo così per contratto tra virgolette ovviamente poi non è che ci sia in linea di massimo un contratto di solito se non non detto cioè per esempio con il proprio pubblico ma se devo esaltarmi costantemente per qualsiasi cosa di cui tutti stanno parlando non è una posizione così facile semplice da mantenere nel tempo diventa un problema e quindi poi capisco tanto più ecco anche ogni tanto che poi cosa succede dopo un po' lo youtuber di turno si confessa a un certo punto dicendo che continuava a fare cose di cui non gliene fregava più niente però perché il suo pubblico la sua nicchia era quella e quindi doveva continuare ad agire in quel modo anche se aveva iniziato a 14 anni e adesso ne ha 20 23 dico a caso non ha più quell'interesse non ha più quella passione però deve ancora comportarsi così come se avesse 15 anni scusate tanto non farò i tagli al video come sapete non li faccio mai continuare a fare quel format a giocare a quei videogiochi non poter sperimentare altre cose perché vede poi che c'è una diminuzione non è facile quindi sicuramente una cosa anche qui ora non è non vuole neanche essere il video su le soluzioni a questi problemi tanto mi interessa così lanciare un po' questo argomento però sicuramente una non soluzione ma comunque un qualcosa che ci permette di tenere un po' a freno questo aspetto è proprio anche quello sicuramente di evitare l'eccessivo e facile e talvolta artefatto entusiasmo che si vede del resto comunque storicamente il giornalismo videoludico nasce proprio come una cosiddetta enthusiast press quindi una stampa di appassionati esaltati che non erano esaltati anche in senso buono c'erano comunque persone che avevano una forte passione in questo senso non erano giornalisti se non in rarissimi casi iniziano a scrivere su queste riviste per parlare della loro passione però anche lì c'era poi passaggio passione lavoro in molti casi la conversione diciamo da una cosa all'altra è andata bene chiaramente e quindi lì può subentrare quella gioia sincera quell'amore e davvero allora lì emerge il gusto di certe persone nel parlare di videogiochi nel presentarli nel discuterli nel consigliare con sincero interesse una certa cosa che a loro è piaciuta eccetera tutto questo questo mondo questa bellezza davvero di approccio in altri casi si è visto poi anche chi nel tempo si è probabilmente dico poi ovviamente non è che si possa stabilire con certezza assoluta è solo la persona stessa poterlo dire però in alcuni casi percepibile dall'esterno questa cosa che almeno sembra in apparenza che questo amore questa corrispondenza ad amorosi sensi con il medium videoludico si sia esaurita da tempo e si va davanti così un po' per inerzia un moto in cui si la ruota continua a girare le cose magari vanno avanti ma c'è qualcosa che si è rotto e che si percepisce questo spero sarà un video visto ecco da un po' di persone che fanno questo di lavoro mi piacerebbe così sentire un po' qualche commento parere personale esperienze vissute sarei curioso anche perché è un argomento che mi piacerebbe ritrattare in futuro in modo più sistematico quindi adesso era così giusto per lanciare la palla ecco sentire un po' seminare qualcosa qualche primo spunto perché ogni tanto è comunque un discorso su cui il mio cervellino i suoi pochi neuroni che ancora riescono a connettere le sinapsi va su questi argomenti su questi discorsi oggi era una di quelle giornate quindi ho detto perché non fare un piccolo video a riguardo tra la lettura di un libro e l'altro e così eccoci qua vi ringrazio per l'attenzione un caro saluto e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video